Ciao, sono sul monte Folgorito in questo momento Questo che non è un microfono ma spiega un cannocchiale Anzi, si chiama TouristFL in cirillico e serve per utilizzare le ottiche M42 come cannocchiali Dopo questa informazione Siamo partiti da là, abbiamo costeggiato tutto il monte e siamo qua Eccoci arrivati alle pendici del Folgorito Si dice alle pendici, giusto? Ed eccoci alla vetta Oh my Oh my god Oh my god Oh my god